Secondo me sono fondamentali queste iniziative, proprio importantissime, perché ho sempre pensato che ad esempio nelle scuole non si fa abbastanza divulgazione, non si fa abbastanza attività artistica in generale. Chiaramente io sono un po' più di parte, nel senso dalla parte del teatro, e credo che abbia una funzione, tutto ciò che riguarda una condivisione sull'arte, abbia una funzione veramente fondamentale a livello sociale, a livello conoscitivo, a tutti i livelli, veramente. Quindi sono contentissima di essere qui oggi e spero di poter essere presente a tante altre iniziative. Chiaro che oggi sono più coinvolta emotivamente e ancora più contenta che esista questo documentario sul mio papà, e mi auguro davvero che ci siano sempre più giornate di questo genere e di poterci venire sempre, magari.